Oggi vi facciamo una cosa golosa, spaghetti al pesto di pistacchio e la burrata. Iniziamo a mettere i pistacchi nel frullatore, 110 grammi, 20 grammi di basilico, guardate bene eh, 100 grammi di parmigiano e uno spicchio d'aglio e 100 ml di olio, ecco. Allora un po' di sale e un po' di acqua di burrata, guardate bene eh, basterà. Felice che lo mangia! Ora mettiamo l'acqua a bollire, oh è proprio un bel primo, via diciamolo. Sta bollendo, buttiamo la pasta! Questa è l'acqua delle burrate, ora ci andiamo a mettere il pesto, guardate che bellezza madama d'orè. E ora le due burrate. Guardate che crema, non è che ci siano barzellette qui eh, guardate che meraviglia si è fatto. Ora ci si mette il tocco finale, che sarebbe una bella spalmata di formaggio. Provate a rifarla a casa, è una meraviglia, io ve lo dico.